Birra ha lo stesso sapore di sempre? La birra ha un sapore meglio di prima, perché insomma adesso mettere il becco fuori casa dopo due mesi di quarantena è tanta roba. Apprezzi meglio i piccoli gesti quotidiani, insomma, che prima facevi tutti i giorni e poi sono venuto a mancare così. Ma dove nascondete le mascherine? Stiamo bevendo, mi sembra un po' difficile. Ce l'abbiamo però quando beviamo almeno una sigaretta e una birretta, senza mascherina, senza mascherina. Volevo un cono. Ma è una fotografia insolita rispetto al normale, no? Senza dubbio, anche forse un po' spettrale a volte. Noi siamo abituati ad avere sempre tantissima gente qui da noi e adesso sia per questioni legate alla poca affluenza a livello totale e non per ultimo invece la impossibilità di far confluire all'interno del nostro locale tante persone. Arrivata l'estate, sembra di stare in vacanza, lo dico sempre, è giusto. Siamo contenti che possiamo tornare a vivere, abbiamo sempre la mascherina però... Tutti dobbiamo reinventarci un attimino per riuscire a soddisfare le esigenze del cliente ma anche le necessità di un locale come questo. Ma si esce con paura? C'è chi ha più paura e c'è chi un po' meno, però insomma la tensione magari c'è sempre.